Sì, c'è messo tutto a un dito su ma quel è il problema, ma dove è accanto? ma c'era la nomina c'era un'ottima di nomini ma quello è un accedio di fatto tutto era l'unico di fatto rigida ma vabbè in cui c'era il petrolismo ma l'annoviglio mii ha c'è, oppure lo promosso ho capito VITERANI Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.